Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gabbo e siamo qui, signori, su Resident Evil Revelation 2 Allora ragazzi, vi voglio portare questa serie perchè l'ho provato, questo gioco, mi è piaciuto davvero tanto e quindi volevo portarvelo su Youtube Adesso, vi voglio dire una cosa, io questo gioco lo porto solo se vi piace, nel senso che se non vi piace non lo porto Perchè l'espansione di questo gioco costa sui 30€, tutte le espansioni, quindi se sinceramente non vi interessa io non ho voglia di spendere 30€ Per una cosa che, cioè, per me io adesso che ho Youtube penso solo ai giochi che vi posso interessare su Youtube e non più per i miei Perchè forse per me lo comprerei, le interi espansioni, però devo pensare a Youtube e quindi non posso pensare qua Quindi io spero che la serie vi piaccia e niente, poi gli horror a me mi sono sempre piaciuti Allora, vi voglio dire una cosa, dal 4 fino al 12 di luglio, quindi dopo domani, io non ci sarò, perché parto per la Sicilia E quindi faccio il tempo a caricarvi il primo fino al terzo episodio di questo gioco e poi niente, non ci sarò E non so se Mattia e Filo riescono a riempirmi il buco, non credo per tutti i 9 giorni, però diciamo ogni 2 giorni dovreste avere un video di loro, ecco Qui ragazzi, cosa dire, vi assumo la cazzina, praticamente ho detto che i virus bla bla bla, fanno gli zombie mutanti Una balla e quell'altra, c'è Terra Save che sono queste persone che vanno a curare questi virus E boh, queste sono le due protagoniste Ci ho giocato per tipo mezz'ora perché volevo vedere com'era E niente, mi piace tanto, c'è quel tocco di horror da Resident Evil che mi piace tanto, i Ganscare, tutte queste cose Allora niente, ma ho deciso di portarvelo Comunque sto zitto se volete ascoltare le cose che vogliono dire E boh, ci vediamo dopo Ho sentito nulla? Cosa? Il nuovo virus? Andiamo Tricello ormai è passato, giusto? Giusto? Ehi, è la figlia di Burton Già, Moira ha iniziato oggi Devi stare attento quando parli di... Lei è suo padre? Eh sì, un campo minato, vero? Ok Sei preparato? Quali altre violazioni della privacy hai nel tuo repertorio? Devo proteggere Terra Save Abbiamo dei nemici Comunque, ammaestrala bene Non è un animale Ciao Chi ha fatto stavolta? Cazzo Barry! Ogni volta che provo a chiedergli qualcosa, lui si tira indietro Non sarei nemmeno qui se non fosse per... No, stai calmo Ciao Keep calm Ecco è arrivato il Fuse Così E' vato il Fuse, Capcan Ecco Rock Allora, scusate, non siamo in Rainbow Six Siege Sperma con le litte, ormai Di sicuro, guarda Che cosa... Non stavi stare Che cosa mi stavi Claire Redfield Tu vieni con noi No Lasciami andare Deve esserci la... Claire! Notte, sogni d'oro Ciao a tutti Bene ragazzi, la sera è finita No scherzo Io so già che usciranno dei bei momenti in questo gioco Lo so Lo so Bei momenti per modo di dire Ovviamente Oh Oh santo cielo Già già io immagino che Che di roba ce ne sarà Che bel braccialetto Sono tizzi lì C'è un'ombra C'è un'ombra Ovviamente lei non l'avrà visto Di sicuro niente E così Ci aprono Come... Come se non fosse Quindi ragazzi Io spero che questo video vi piaccia Mi raccomando Fate supportate questa serie Noi ci vediamo al prossimo video Bye